Permesso? Prego, accomodati. Sai perché sei qui? Ho combinato un casino, vero? Questa mattina ho parlato col Consiglio e con le Risorse Umane. E? Abbiamo deciso di dirglielo. Ma no, non potete. Possiamo e dobbiamo. Dio, ascoltami. Abbiamo deciso di ammettere pubblicamente che non esisti. Ma perché? Perché è necessario chiarire questa cosa. Oggi più che mai. Hai visto cosa succede lì sotto? Cosa succede? Si ammazzano per te. Ma per favore. Si ammazzano per i soldi, per il controllo o perché si ammazzavano i loro nonni. Sì, si ammazzano anche per quello. Ma non credi sarebbe opportuno levargli una scusa? Mi state licenziando? Temo di sì. Io sono il volto di questa azienda. Ma per cortesia. Sai benissimo che sei andato molto oltre il tuo ruolo di mascotte. Ma mica gliel'ho detto io di farsi la guerra. Sono state tutte quelle religioni. Oh, non cominciamo con la canzone di John Lennon, eh? Questo è uso improprio delle risorse aziendali. Ok? E tu lo sai benissimo. Io mi rendo conto che come soluzione suoni un po' drastica. Ma per il bene di tutti si è deciso così. E adesso che succede? È molto semplice. Una bella conferenza stampa in cui tu ti scusi e spieghi che non c'è nessun dio. Sono un impiegato un po' zelante che si è fatto prendere la mano finché la cosa non è sfuggita al suo controllo. Gli avvocati hanno preparato una bozza di documento che ci solleva da ogni responsabilità. La leggi, la firmi e chiariamo questo equivoco una volta per tutte. E poi? E poi te ne vai? Ma io non voglio. Per favore, non rendere questa cosa più difficile di quanto già non sia. Non sei più credibile. Non servi più. Ma lì fuori c'è un universo enorme e spaventoso. E loro hanno il diritto di avere paura senza di te. Sei stato le rotelle della bici per un po'. Più di quanto fosse necessario. Adesso è il 2023. Sono grandi? O è ora che lo diventino? È giusto che si assumano la responsabilità dei loro trionfi e delle loro tragedie. E allora mi prendo le montagne. Cosa? Se mi licenziate, ho il diritto a una buona uscita. L'ho letto sul contratto. E mi porto via le montagne. Ma non essere ridicolo. Le montagne sono proprietà aziendale. Le ho costruite io. Le placche tettoniche le hanno costruite. E che mi porto via? Niente. Le figi? No. Il tramonto? No. Un tramonto? No. Uno piccolo? Sul mare? No. Ma io... Ma loro? Loro? Si ammazzeranno lo stesso. Troveranno altri modi. Altri pretesti. Lo sai? Sì. Ma finalmente potranno dare la colpa solo a loro stessi. Io non volevo far del male a nessuno. Lo so. Volevo che... Che avessero qualcuno a cui... Con cui... Lo so. Ne l'ho anche spiegato. Ci ho provato. Con tutti quanti. In tutte quelle forme. In tutte quelle lingue. Ma poi ogni volta hanno fatto quello che volevano. E quando ho capito cosa avevano scatenato... Ho smesso immediatamente. Ma era troppo tardi? Sì. Sì. Era troppo tardi. Mi dispiace. Dico davvero. Ascolta, tieni questo. Cos'è? Un tramonto sul mare? Oceano Pacifico? Mar Adriatico. Mar Adriatico. Altezza Giulianova. Di più proprio non posso. Grazie. Allora io vado. Addio. Addio. Aspetta. Cosa? Il badge.